Oggi è la giornata internazionale contro le discriminazioni razziali e noi siamo orgogliosi in questa giornata del 21 marzo di poter promuovere un'iniziativa che vede insieme alla Presidenza del Consiglio e a UNAR molte realtà della nostra città collegate perché tutte attente ai temi degli stereotipi, dei pregiudizi e del contrasto al razzismo. E quindi tutte queste realtà oggi raccontano le loro esperienze perché solo conoscendosi, relazionandosi con i soggetti con i quali si lavora si possono superare barriere che ancora esistono e lo sport è uno strumento educativo straordinario. Oggi scopriremo testimonianze importanti che ci rafforzeranno nel nostro lavoro di rete costante e continuo per superare qualunque barriera che sia mentale, che sia fisica ma che consenta a tutti e a tutte di essere se stessi. Grazie 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 Grazie